Naive Slimtech, firmata da Patrick Norgay, trae ispirazione da una tecnologia d'avanguardia. È l'incontro tra design e tecnologia, tra artigianato e industria, tra gress porcellanato e smalti. I pattern, che ricordano linee a matita tracciate con cura, evocano un intreccio, una rete di segni casuale, che emana un candore emozionante. Naive Slimtech si contraddistingue per una texture superficiale quasi tridimensionale, ottenuta grazie a un'innovativa tecnologia a base di smalti. I pattern riprodotti restituiscono un disegno a basso rilievo, una trama di linee che enfatizza la profondità materica ed offre un effetto galleggiamento del segno grafico, gradevole al tatto e alla vista. Naive è realizzato con moduli di gress laminato ultra sottili con spessore di soli 5,5 mm. Le lastre, dai formati record di 3 metri per un metro, vengono prodotte senza l'impiego di stampi e successivamente tagliate. A partire da un'accurata selezione delle materie prime e da una tecnologia rivoluzionaria e sostenibile, Naive Slimtech è una soluzione che combina prestazioni estetiche e tecniche ineguagliabili, resistente e durevole, facile da tagliare in qualsiasi forma, si applica a parete e a pavimento.